Un altro finanziamento importante che si aggiunge a una programmazione che nel corso degli ultimi anni si sta facendo in materia dei rifiuti d'ambiente. Avevamo questo secondo finanziamento dato nell'anno che consentirà ai comuni di poter rifare interventi finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni impianti di depurazione del sistema idrico nella sua interessa e alla risoluzione di alcune problematiche derivanti al smaltimento dei rifiuti attraverso l'avvio di azioni finalizzate alla raccolta differenziata e azioni finalizzate alla realizzazione di isole ecologiche. Questo programma nasce dalle esigenze di poter dare una risposta concreta e comune e soprattutto per evitare che le risorse finanziarie che sono appostate sul POR non potevano essere utilizzate e rendicontate entro fine anno e quindi abbiamo dato questo impulso maggiore avviando questo bando che si è chiuso nel mese di agosto e che oggi abbiamo convocato i sindaci per accompagnarli in questa procedura di realizzazione delle opere che dovranno essere effettuate entro il prossimo mese di dicembre. Siamo convinti che riusciamo a raggiungere questo obiettivo perché abbiamo una buona squadra di tecnici che sono a supporto dei comuni e anche le stesse amministrazioni comunali si stanno organizzando e nelle mori dell'avvio delle procedure di gara stanno facendo tutti gli atti propiedenti con l'obiettivo di spendere queste risorse finanziarie entro fine anno. I comuni comunque hanno partecipato a un bando attraverso un progetto esecutivo che noi abbiamo finanziato e che accompagneremo anche i comuni nelle procedure di assistenza tecnica per raggiungere generalmente il risultato di fare la spesa entro fine anno. Abbiamo recuperato questi 40 milioni di euro sostanzialmente da altri interventi che comunque stentavano a partire per problemi legati o a contenziosi insorti con imprese o a problemi di rendicontrazione non effettuati nei tempi e quindi abbiamo spostato queste risorse su queste importanti asse come strategia ovviamente di dare supporto ai comuni per poter risolvere i problemi in materia prevalentemente ambientale. Sono tutti progetti importanti che spaziano dalle cose più piccole di 300 mila euro fino al milione di euro per la sistemazione delle rete idriche. Abbiamo sostanzialmente una situazione di difficoltà di approvigionamento di acqua e quindi all'interno di esso in un ragionamento complessivo abbiamo messo dentro sia la parte della depurazione sia la parte dell'approvigionamento di idrico attraverso la realizzazione di infrastrutture idriche all'interno degli stessi comuni per evitare che la risorsa idrica venga dispersa ovviamente a causa delle rotture delle condutture, delle infrastrutture idriche come dicevo. Quindi sono progetti mirati a risolvere problemi puntuali che si vanno a riversare però sull'intera collettività. Qui avevamo un intervento finanziario sulla discarica di San Badello di 30 milioni di euro sul quale c'è un consenzioso che si sta sostanzialmente cercando di portare a termine. Quindi è chiaro che un intervento importante come la discarica di San Badello non può che non trovare un'apertura molto forte a parte della regione che laddove le risorse non dovessero essere sufficienti in questa tornata li metteremo nella seconda programmazione. Quindi sono interventi importanti che sono i piccoli interventi che vanno realizzati entro fine anno. Lo spirito di questo Bando era quello di fare opere con pensature tale da consentire di realizzare gli stessi interventi entro il 31-12-2023. Interventi importanti come la discarica di San Badello o altri interventi di impianti più significativi è chiaro che non possono avere gli stessi tempi di programmazione e lo stesso ruono programma finalizzati a realizzare gli interventi nei tre mesi che rimangono per l'attività.